Proseguono i seminari formativi organizzati dal Consiglio regionale con l'Ordine dei giornalisti e la Federazione Piccoli Editori Giornali del Piemonte. Dopo Alessandria e Fossano si è svolto a Vercelli l'incontro dedicato a Carta, Digitale e Territorio, informazione locale e comunicazione pubblica al servizio del cittadino lettore e navigatore. Prossimo appuntamento il 4 dicembre a Biella. Nel nuovo anno si completa il tour nelle province piemontesi.